Sono tornato, è stata un'esperienza difficile, ma mi ha insegnato anche delle cose, a guardare le cose da un punto di vista che non avevo mai avuto. I primi sintomi sono comparsi una ventina di giorni fa, qualche acciacco ma nulla di grave. Poi il tampone positivo, così il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto ha scoperto di avere il Covid. Come e quando ha capito che la situazione stava peggiorando? Ho avuto un episodio di collasso cardiocircolatorio che mi ha allarmato, ho chiamato il medico e mi ha detto che lei si deve ricoverare subito d'urgenza. Dopo due giorni di reparto Covid mi hanno portato in terapia intensiva, sono stato col casco due giorni e dopo due giorni c'è stata una ripresa quasi improvvisa. Cosa l'ha colpita di più del reparto Covid e del reparto di terapia intensiva? È un reparto che funziona, sia quello che il reparto Covid. L'approccio umano è uno stile, perché dal primario agli infermieri, ai medici, hanno tutti lo stesso stile. L'episodio del collasso è stato quello che forse mi ha salvato, perché io non avrei chiamato il medico se non lo avessi avuto, avrei continuato a curarmi e a stare male a casa. E questo è il pericolo di questa malattia, che è estremamente subdola, ed è pericolosa proprio per questo motivo.